Seconda corsa premio Piazza Venezia è il sottoclou del convegno di oggi, un bellissimo miglio per anziani di categoria B e C in nove che stanno andando agli ordini dello starter con l'uno Balboa Lux, Enrico Bellei, due Umberto Axe e Romolo Sani, tre Veri Gioi, Giorgio D'Alessandro Junior, quattro Capovento Pax, Antonio Simioli, cinque Capitan Cash e Lepiro, Berto Vecchione, sei Boston Lewis, Gaetano Dinaro, sette back on top Giuseppe De Filippis, questa la prima fila, seconda fila per l'otto Bandito Ben Mario Manzone, il nove Jimmy Ferro, Alessandro Gocciadoro. parte piano Boston Lewis, cerca di partire forte a largo di tutti, back on top, va lungo la corda e veloce Balboa Lux che cerca di rientrarli ma back on top, passa di forza, riesce ad andare in testa dal sette, ha fatto davvero molto, giuseppe De Filippis con back on top, è riuscito ad andare al comando dal terribile numero sette, a largo di Balboa Lux e rimane Veri Gioi, dietro il quale c'è già Jimmy Ferro che affianca Umberto Axe, quarto in corda c'è Bandito Ben, filtrato dalla seconda fila che ora accenna a spostare nella scia di Jimmy Ferro per prevenire le mosse di Capovento Pax e poi a chiudere Capitan Cash LP e Boston Lewis. con back on top e Giuseppe De Filippis che ora cercano di portare il cronometro dalla loro parte ma comunque i 600 iniziali sono in 43 e 4, misura comunque discreta ma certamente non eccessiva visto il livello tecnico dei partecipanti e adesso il paletto di metà gara è in 58 e 2 per back on top che ha alzarchi sempre Veri Gioi, poi la pariglia composta a Balboa Lux e Jimmy Ferro che si affaccia in terza ruota, prova a seguirlo Bandito Ben, Ben accelera back on top, problemi per Balboa Lux, Veri Gioi che può accodarsi a back on top che va in fuga da Jimmy Ferro, back on top e accelerazione in spinta 26 e 8, il penultimo quarto per back on top che si dà alla fuga da Veri Gioi e Jimmy Ferro, poi anche Bandito Ben che prova a essere della partita, back on top in fuga, Jimmy Ferro che ha ragione di Veri Gioi, prova ad unirsi Bandito Ben, Jimmy Ferro che non si dà per vinto, va all'inseguimento in back on top che però è ancora in buon vantaggio, recupera Jimmy Ferro, recupera Bandito Ben, si getta di galoppo back on top, vince Jimmy Ferro su Bandito Ben e poi rinviene forte al terzo posto, dovrebbe essere forse Boston Lewis, vince dunque Jimmy Ferro, back on top ancora in vantaggio, si getta di galoppo 1, 54 e 6 sul mio cronometro per la vittoria, rivediamo l'errore fatale di back on top a 40 metri dal traguardo e allora la rincorsa di Jimmy Ferro diventa vincente davanti al sempre più strepitoso Bandito Ben e oggi incisivo anche dalla seconda fila, 9-8 essendo ovviamente squalificato back on top la terza piazza che ha pannaggio di Boston Lewis, finito come sempre forte dalla retroguardia a battere Veri Gioi, 9-8-6, l'arrivo ufficioso della seconda di Capannella e la linea che può tornare a Matteo Pinseuti. Grazie. Grazie.